Noi siamo un negozio, vendiamo e noleggiamo biciclette elettriche, crediamo fermamente che la bicicletta elettrica sia un po' il futuro di questa nostra società, innanzitutto perché come sappiamo tutti è ecosostenibile, però in realtà è un movimento in forte sviluppo perché permette a tutte le persone, anche non allenate, anche non preparate, di utilizzare la bicicletta affrontando anche delle salite e dei percorsi che sono molto importanti e impegnativi.